Musica Telespettatori marchigiani, buonasera e bentrovati da On Air News, il telegiornale di UTVRS. Ampia pagina di cronaca in apertura. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo adulto è stato trovato stamane poco prima delle otto nel fiume Sino a Falconara Marittima, circa 300 metri dalla foce. Sono ignote per ora le cause del decesso. A scorgere il corpo in posizione supina, arenato in una secca naturale del fiume, è stato un pescatore che si accingeva a raggiungere appunto il greto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Falconara e del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ancona. Il cadavere, è una delle ipotesi, potrebbe essere finito in acqua altrove e trasportato dalla corrente verso la foce. È sempre ricoverato in prognosi riservate il 29enne senigalliese salito sul tetto di un centro commerciale per mostrare a degli operai il punto dove si trovava il motore di avviamento malfunzionante dell'impianto di climatizzazione. Il ragazzo ad un certo punto ha perso l'equilibrio facendo un pauroso volo di circa 5 metri. Nell'impatto ha subito anche un grave trauma addominale. Dramma a pochi passi dalla bocciofila Sant'Andrea questa mattina dove un uomo di 57 anni residente a Sant'Elpidio a Mare ha accusato un improvviso malore che gli è stato fatale. L'uomo è morto nonostante i soccorsi immediatamente portati dal personale della locale Croceazzurra. E torniamo ad occuparci della tredicesima edizione del forum delle città creative Unesco in corso di svolgimento sino a sabato a Fabriano con la partecipazione di delegazioni provenienti dai cinque continenti. Sentiamo l'intervista con il ministro per i beni e le attività culturali Bonisoli. L'Italia e Fabriano in particolare sta ospitando un evento a carattere globale dove le rappresentanze di centinaia, letteralmente centinaia di città di tutto il mondo sono venute qua per ragionare sul rapporto che c'è tra creatività, cultura, città e sviluppo delle persone che in queste comunità ci abitano. Penso che sia una cosa molto importante anche perché è il modo migliore per mettere in risalto un po' quello che noi siamo. Noi siamo un paese che è cresciuto letteralmente dall'unione di tanti borghi come questo, che ha una forte identità legata al territorio. Nel giro di 20 chilometri cambia tutto da noi e noi giustamente vogliamo portare questa ricchezza e condividerla con i colleghi di tutto il mondo. Questo è il primo risultato. Il secondo risultato è per il futuro. Mi piacerebbe che oggi comunque da questa situazione si andasse avanti in un cammino dove un ragionamento elevato su quello che è la città, su quello che è la cultura, sul ruolo che la creatività può giocare a livello economico, a livello sociale e anche a livello di soluzione, superamento di alcuni dei conflitti e delle criticità che la nostra società sta attraversando in questo momento. Penso che Fabriano sarà una tappa importante di questo percorso. Due mezzi agricoli per un valore di 50 mila euro sono stati rubati dai soliti ignoti presso un'azienda in frazione per inci di cingoli, non lontano da Pignano. I ladri hanno prima scavalcato la recinzione e poi hanno forzato le porte d'ingresso caricando il bottino, probabilmente su un camion che li attendeva sull'episodio, indagano i carabinieri. Un dipendente della regione Marche, Stefano Mircole, un imprenditore dell'Ascolano, Cristina Perotti, della dimensione Scavi, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta della procura di Ascoli Piceno riguardante la gestione delle macerie post-sisma. Le ipotesi di reato contestate sono corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. Le indagini, secondo l'accusa, avrebbero raccolto elementi indiziari gravi su uno stabile e strutturato asservimento del pubblico funzionario agli interessi della società privata e a un accondizionamento delle procedure. Non ci sarebbero stati passaggi di soldi, ma scambi di informazioni. Gli arrestati verranno sentiti nell'interrogatorio di garanzia per chiarire le loro posizioni. Ed ora cambiamo argomento, luce d'ombre del settore dell'edilizia in un interessantissimo rapporto CEDAM presentato oggi in Regione. Per noi c'era Manoli Tascocco. Appalti pubblici in calo con una riduzione anche dell'importo medio. Dopo la ripresa del 2018 tornano a calare le imprese meno 10,7 e quindi gli addetti, che segnano negli ultimi nove anni una perdita di 12.500 occupati. Ed infine le banche che hanno tagliato i finanziamenti. Il settore edile marchigiano è in crisi e queste sono in sintesi le note dolenti che emergono dal quinto rapporto CEDAM, Cassa Edile Artigiana e della PMI delle Marche. presentato ad Ancona in Consiglio regionale, la presenza tra gli altri del Presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mastro Vincenzo. Io dal rapporto vedo che ci sono luce e ombre. Sicuramente come diceva lei, per quanto riguarda l'area dei cratere, ci si aspettava proprio nel campo dell'edilizia una ripresa più costante. È evidente che questa ripresa non c'è stata, purtroppo devo dire non solo nel settore dell'edilizia ma anche nel manufatturiero. E credo che, essendo le Marche stata l'ottava regione in tutta Europa per il manufatturiero, mi preoccupa in particolare questo aspetto. Non che l'edilizia sia di minore importanza, ma penso che sia sull'edilizia che sul manufatturiero dovremo lavorare per aumentare investimenti, per aiutare le imprese a rilanciarsi in quel territorio. Dal rapporto della Cassa Edile dell'Artigianato Marchigiano, illustrato da Giovanni Dini, CNA Marche e Fabiana Screpante, Confartigianato Marche, emergono però anche dei dati positivi, legati soprattutto alla ricostruzione post-sisma, come evidenziato da Aramis Garbatini, presidente CEDAM. E quello che viene fuori anche dal rapporto di oggi, anche seppur lieve il settore dell'edilizia sia a livello nazionale ma anche a livello marchigiano, inizia a dare dei segnali positivi già dal 2018, seppur pochi, però comunque sono in controtendenza con quelli che sono gli andamenti degli altri settori a livello nazionale e anche a livello locale. È chiaro che dobbiamo prendere questo dato con ottimismo, ma un ottimismo che deve avere i piedi per terra, perché comunque veniamo da un decennio in cui l'edilizia è stata praticamente disintegrata. Molte imprese non ci sono più, molte altre si stanno ancora recando le ferite e quindi stanno lottando e in questa lotta sta dando i suoi risultati. Noi come CEDAM e con tutti i sistemi che li girano tondo dobbiamo dare supporto e formazione alle nostre amiche imprese perché si possono continuare questo trend di crescita che non sia solo fisiologico ma che inizia ad essere un trend naturale, insomma. Rete internet assicurata lungo il litorale pesarese da Fosso Segliore a Baia Flaminia grazie al progetto regionale Wi-Fi Spiagge Marche. Da mesi l'azienda Umbro Marchigiana Fidoca ha lavorato in sinergia con Marche Multiservizi del Comune di Pesero per garantire la copertura internet al mare. Il servizio sulla spiaggia pesarese è completamente gratuito per cittadini, operatori e turisti. Sarà sufficiente registrarsi tramite un portale unico regionale accreditandosi attraverso una semplice procedura che richiede l'attivazione via sms. In piazza con le bandiere blu anche quest'anno la regione Marche festeggerà sabato 15 giugno dalle 18 i vessilli della qualità ambientale costiera in una manifestazione che si terrà con i sindaci dei comuni premiati nella piazza del municipio di Gabicce Mare. E conto alla rovescia macerata per la rievocazione storica della trebbiatura. Enrico Scoppa. La 34esima edizione della rievocazione storica della trebbiatura riproposizione antichi mestieri degustazione dell'oca è ormai pronta a partire. C'è gran fermento presso l'azienda agraria Lucangeli tirata a lucido per l'occasione. La prologo di Piedripa guidata dal suo presidente Romualdo Rapanelli sta lavorando solo per presentarsi al pubblico fra qualche giorno nella maniera migliore. L'azienda agraria Lucangeli, alcune note storiche sono importanti anche queste, per capire dove siamo ospiti. La fattoria di Salri Parato Lavalle fa parte dell'azienda agraria Lucangeli dal 1862, anno in cui venne acquistata dalla casa Orsini, cui era pervenuta nel 1825 dai Torlonia. Il connubio fra la prologo e l'azienda Lucangeli, questo grandissimo casale che ci ospita da parecchi anni, ne è la testimonianza tangibile. Soprattutto perché? Perché quello che facciamo, quello che riusciamo a fare come associazione riguarda i nostri collaboratori, le nostre cuoche che sanno sempre sottolineare quelle che sono le pietanze più prelibate. Ecco, rievocazione storica ma anche buon gusto perché praticamente è supportato da una cucina incredibile. Sicuramente sì, perché quello che riguarda le nostre radici, i nostri piatti, lo possiamo evidenziare in modo specifico proprio in questa location, che è un'azienda, un casato lasciato così naturale com'è. Questo è un sodalizio che si sposa molto bene con quello che facciamo noi. Domanda quasi d'obbligo. I ragazzi si avvicinano a questo tipo di manifestazioni? La curiosità loro la possiamo vedere tante volte, nonostante le fatiche che fanno e nonostante il fatto che si avvicinano a una cosa che non conoscono. Però sicuramente cercheremo di dare alito al fatto che questa è una cosa che verrà tramandata anche a loro. Grande occasione comunque anche per degustazione, lo dice anche nel titolo dell'OCA e quant'altro. Quindi occasione per mangiare qualche cosa di buono e di diverso. Sì, il nostro fiore dell'OCA naturalmente è l'OCA, ma ci sono anche altre pietanze, tipo i mici sgrassi, tipo la grigliata mista, tante altre cose. Sicuramente chi verrà da noi assaggerà dei piatti particolari e non andrà magari al ristorante. Queste sono sacre che hanno un sapore particolare. Ed apriamo ora la pagina sportiva con il calcio. Sarà molto probabilmente Rosario Campana, 59 anni, il nuovo allenatore dell'Anconitana in eccellenza. Questo tecnico, poco conosciuto dalle nostre parti, ha recentemente guidato il Gragnano in Serie D. Da verificare anche la permanenza di Salvatore Mastronunzio, vero idolo della tifoseria d'Orica, nella prossima stagione. Un incontro c'è stato comunque con il patron Stefano Marconi. Intanto Roberto Vagnoni, ex Castelfidardo, si è a casa al San Nicolò Notaresco, sempre nel massimo campionato dilettantistico. E passiamo ora all'atletica con gli ottimi risultati ottenuti dagli atleti marchigiani ai campionati italiani junior e promesse di Rieti. Sentiamo Mario Giannini. È stata un'edizione di successo per molti atleti delle società marchigiane i campionati italiani per le categorie juniors e promesse di Rieti, che si sono svolti in questo ultimo weekend. La prima medaglia la porta a casa Giorgio Olivieri, della TAM, nella gara del martello junior, dove stabilisce il nuovo record italiano con l'attrezzo da 6 kg, che peraltro era già suo, portandolo a 79,23, che è anche la seconda migliore misura stagionale al mondo. Sempre nel martello junior femminile, ancora oro per Sara Zuccaro, fabrianese, che fin dal primo lancio fa capire all'avversario di essere lei l'atleta da battere. E con 55,50, si insedia al primo posto. Molto attesa la gara dello stamorino Simone Barontini della categoria promesse, che quest'anno aveva già conquistato il titolo indoor e fatto buoni progressi nei metri 400. Gara per lui di testa, con un finale autorevole, chiudeva a braccia alzate con il tempo di 1,47 e 90, per la soddisfazione di molti amici anconetani presenti sugli spalti. Nella giornata di domenica, ancora una medaglia, la quarta, per merito della sanbennettese della collection, Emma Silvestri. Anche lei al primo anno della categoria junior come la Zuccaro. Emma non viene tradita dall'emozione e finisce veramente forte con il tempo di 59,46. Oltre ai quattro ori registriamo anche altri piazzamenti da podio, come il secondo posto del giavellotto di Simone Comini, sempre seconda anche la pesarese dell'Avisi Macerata, Elisabetta Vandi, nei metri 200. Al terzo posto la fabrianese Irene Rinaldi nel peso e il Gabriele Rossi Sabatini della TAM nel disco. Ancora calcio, Walid Khedira passa al Parma. In una lettera aperta l'attaccante ringrazia società, ex compagni di squadra e tifosi della San Giustese, ricordando le 72 presenze e le 20 reti con la maglia rosso-blu. Sono felice ed emozionato per l'avventura che mi aspetta nei prossimi mesi, ha scritto il giocatore. Sin da quando ero piccolo il mio sogno era fare il calciatore professionista. Ora che è arrivata questa straordinaria opportunità, sento il cuore pieno di gioia e di riconoscenza per tutti. E siamo ora alle previsioni meteo per venerdì 14 giugno. Bentornati a un nuovo aggiornamento realizzato da ilmeteo.it. Previsioni per venerdì 14 giugno. Ondata di caldo sulle nostre regioni, l'anticiclone di origine africana favorirà un'altra giornata di bel tempo con assenza pressoché totale di precipitazioni. Spostiamoci ora al centro. L'alta pressione protegge tutte le nostre regioni favorendo una giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno su gran parte dei settori, poco o parzialmente nuvoloso solamente sulla Toscana e sulla Sardegna. Concludiamo dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 14 gradi e non supereranno i 21 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 33 gradi al nord e fino a 37 gradi sia al centro sia sulle regioni meridionali. Sabato 15 e domenica 16 giugno allo Stadio Alviarecina di Macerata sarà teatro dei campionati italiani assoluti FISDIR di Atletica 2019, ossia della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali. La Kermesse nazionale torna in città dopo la precedente edizione del 2015 e lo fa con numeri importanti 161 atleti e 29 società in lizza. Anche in questa occasione l'evento organizzato dall'Antropos tra gli atleti marchigiani o portacolori di società marchigiane figurano campioni di caratura internazionale quali Rud Cutichi, Raffaele Di Maggio, Gaetano Schimmenti e Fabrizio Vallone per l'Antropos, Luca Mancioli e Daniel Gorini per la Mirasole Fabriano. E con questo è tutto, grazie per averci scelto e appuntamento con il nostro telegiornale a domani. Grazie per aver guardato il nostro canale.